Il WWF ha redatto un documento in otto punti da sottoporre ai candidati presidenti della regione in vista delle prossime elezioni. Voi auspicate un confronto sulle tematiche ambientali? Sì, abbiamo preparato questo documento che è diviso in otto sezioni. Ogni sezione si apre con una descrizione della situazione abruzzese, facendo dei riferimenti normativi a dei piani sia nazionali che internazionali. Rispetto a questo campo vorremmo che fosse basata la discussione sulle tematiche ambientali in vista delle elezioni regionali. Vorremmo che ciò che riguarda la natura in Abruzzo, natura in senso ampio, fosse discusso con dati, evidenze scientifiche, non solo come percezioni, slogan o frasi fatte. Per questo ci piacerebbe organizzare un confronto diretto con i presidenti della regione Abruzzo, candidati alla presidenza della regione, ai quali manderemo il nostro documento e li inviteremo proprio ad incontrarci. I temi sono quelli a noi cari, dalle aree protette alle biodiversità, alla mobilità sostenibile, all'educazione ambientale. Ovviamente il documento si apre con il piano di adattamento ai cambiamenti climatici, che è un po' il filo che dovrebbe far prendere iniziative e azioni in tutti i campi.